Giornata Ecologica a Dominia è un'iniziativa che vede coinvolto il Comune, vede coinvolti diversi enti di volontariato, il quartiere e tanta gente di buona volontà, diciamolo, chiamiamola pure così. Un'iniziativa che è nata in che modo, Coretti? Allora, un genitore in particolare mi ha contattato come Presidente del Consiglio di Quartiere chiedendo la disponibilità di pulire i parchi giochi per i bambini. Abbiamo poi chiesto la collaborazione del Comune e in seguito anche, sempre anche l'assessore strada, è venuto ad aiutarci a sanificare il tutto. In che cosa consisteva questa operazione? Intanto, chi avete, diciamo, un po' coinvolto? Abbiamo visto, vabbè, il quartiere, ma poi altre associazioni? Abbiamo accolto in pieno la proposta del quartiere che è coinvolto poi anche l'associazione Lupi di Dominia Centro e mettendo a disposizione anche del personale del Comune abbiamo continuato questa giornata proprio per pulire dall'area del forum, col parco giochi del forum e i giardini pubblici così per dare ai genitori e ai bambini dei giochi che siano puliti e soprattutto igienizzati. Vi aspettavate tanta gente questa mattina? Sì, noi ce l'aspettiamo perché sappiamo che i volontari o meglio ce ne sono tanti e tanti stanno lavorando bene in tutte le frazioni. Oggi abbiamo anche approfittato per sanificare tutti i giochi perciò adesso i bambini possono tornare a giocare in totale sicurezza. Ci saranno altre occasioni simili magari in altri momenti o in altri luoghi della città? Noi siamo sempre disponibili, ci sono volontari che ci propongono di fare giornate del genere e noi ci saremo, quindi ben volentieri. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie.